Eccoci di nuovo qui Ma perché devo entrare? Non voglio entrare! Entro o non entro? No! Infatti comunque c'era la verifica di matematica La scampo eh? Vabbè vado a pre... Cosa? No! Non può essere vero! E dai! Ancora! No perché? Oddio la verifica! Numero due oddio! Grazie! La penna! La penna! Andrà malissimo! E dai! Non ricominciate! No dai per favore! Dai ragazze! Ma quanto siete simpatiche! Finalmente sì! Strang Grazie a tutti! Grazie a tutti!